no, dobbiamo recuperare il disinnescatore ragazzi fanno le città su te due è stato pure killcat no questo me la salvo è proprio da youtube un demopero proprio questo muovere proprio questo è da youtube una monofonte che stava metto proprio con il canale immediatamente che poi tra l'altro sai si kille ha fatto team kille è stato pure chiccato si è stato chiccato ma quando ha acceso il primo scusate? ah era Lush da flashato